Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast giornaliero su cosa leggere e cosa vedere in questi giorni in cui quasi tutti siamo bloccati in casa. Se ieri abbiamo parlato di una serie tv giapponese molto particolare di nicchia Midnight Dinner Tokyo Stories è una serie tv giapponese con i sottotitoli oggi rincariamo la dose e parliamo sempre di una serie tv giapponese sulla piattaforma Netflix, anzi prodotta da Netflix però in questo caso è al doppiaggio in italiano probabilmente Netflix ci ha puntato molto di più anche perché l'argomento è molto ma molto intrigante stiamo parlando di una serie tv dedicata al mondo del porno giapponese e il titolo della serie è Il Regista Nudo una serie del 2019 che conta per adesso una sola stagione ma in produzione ce n'è anche una seconda di cosa tratta questa serie tv del titolo così particolare è la storia vera, quasi autobiografica di Toru Muranishi quello che viene considerato uno dei più rivoluzionari registi del porno giapponese non vi svelo molti colpi di scena di questa serie perché la vita di Muranishi è stata veramente ma veramente incredibile siamo negli anni 80 Muranishi inizia come venditore di enciclopedie porta a porta in inglese e diventa poi uno dei registi del porno giapponese e dell'industria del porno giapponese più importante e più rivoluzionario come arriva al mondo del porno ve lo lascio scoprire attraverso questa serie tv che ovviamente in parte romanza la sua vita ma devo dire che leggendo la sua biografia che trovate anche su wikipedia scoprirete che non è molto così inventato la sua storia che trovate nella serie tv per cui tutto quello che vedete, gli arresti, la fuga, la sua trasferta nelle Hawaii dove ha girato ben 30 film porno in 30 giorni per poi finire arrestato e messo in carcere per un anno è tutto vero, tutto quello che vedrete nella serie tv è vera tutta questa storia ha momenti sì drammatici ma il mondo generale è molto da commedia per cui vi diverterete molto a guardarla perché veramente anche se stiamo parlando del porno e stiamo parlando del mondo giapponese degli anni 80 in cui la censura era presente in maniera massiccia pensate che quando Muranishi si affaccia al mondo del porno in quel momento le scene di sesso erano completamente finte e lui è stato uno dei primi a introdurre veramente il sesso reale nelle scene dei film ma si scopre anche che poi la censura aveva un potere enorme cosa che attualmente è ancora presente nei film di giapponesi porno per la legge giapponese non si possono far vedere gli organi sessuali per cui in qualche maniera i giapponesi dovevano inventarsi per far capire cosa succedeva e se inizialmente si usavano delle metafore anche molto molto fantasiose Muranishi ha introdotto veramente il sesso nella sua forma reale e poi lui ha inventato quel stile molto giapponese che trovate ancora ad oggi sul porno che è molto realistico simile a quasi un documentario infatti Muranishi non era solo il regista ma spesso e volentieri partecipava anche come attore e si vede praticamente il film dal suo punto di vista è stato ed è un personaggio molto controverso del panorama giapponese perché ancora oggi fa scalpore con i suoi tweet e con il suo blog non raramente gira film porno però il film tratta principalmente l'inizio della sua vita gli anni 80 per cui il mondo che vi aspettate di vedere è proprio quello molto colorato molto lucicoso per qualche in qualche maniera quello degli anni 80 giapponesi sono stati un po' simili i nostri anni 80 perché l'influenza c'è però del resto poi lui è molto giapponese anche nella filosofia nella dedizione al suo lavoro e alla sua idea comunque di rivoluzionaria perché se è iniziata la sua carriera perché in qualche modo non aveva più un lavoro nella sua storia è diventato veramente un innovatore in questo mondo e poi è anche molto interessante perché si vede anche il mondo negativo il mondo che c'era dietro il commercio illegale di film porno non censurati che c'era quel tempo in Giappone gestito dalla Yakuza c'è veramente tanto in tutti questi otto episodi che raccontano la prima parte della sua vita vi diverterete molto è molto divertente però ci saranno anche comunque dei punti di riflessione ha dei momenti anche drammatici è veramente ben girato se Midnight Dinner Tokyo Stories era molto giapponese anche nella regia nel linguaggio cinematografico non preoccupatevi questo sì è giapponese anche nella regia ma è molto molto dinamico nel modo di girare perché comunque in qualche maniera vuole anche riprodurre gli anni 80 anche nel modo in cui vengono girati gli episodi è una serie che io vi consiglio assolutamente sono solo otto episodi io aspetto assolutamente la seconda stagione perché voglio capire come andrà avanti la vita di Muranishi voglio scoprire ancora di più il mondo del porno giapponese perché poi scopriremo anche diciamo la sua musa la sua attrice che lui scopre e diventa anche lei una rivoluzionaria perché introduce e non vi dico cosa nel mondo femminile giapponese in maniera prorrompente perché poi Muranishi esce dal mondo del porno per diventare veramente un simbolo e finisce anche non solo in carcere ma anche sulle tv nazionali tutti ne parlano anche perché era diventato estremamente ricco e la sua attrice preferita diventa anche lei un simbolo però non vi dico null'altro della serie ma non voglio rovinarvela in questi giorni c'è del tempo per cui vi straconsiglio il regista nudo che trovate su Netflix e con questo si conclude questo podcast io vi do appuntamento a domani con un altro episodio ciao e mi raccomando restate a casa e non preoccupatevi prima o poi da questa situazione ne usciremo e io spero migliori iscriviti al canale